Addobbi natalizi fatti in casa, riutilizzando anche materiali non più in uso per una giusta causa, contribuire a realizzare iniziative di inclusione e sostegno per le famiglie con bambini autistici. E l'iniziativa lanciata ad Andrea dal comitato Io ci sto e Lions Club Castel del Monte host. Nel giorno dell'Immacolata ci si può recare in via Regina Margherita e acquistare questi addobbi colorati e creativi per contribuire alla causa per la quale, da un anno esatto, è impegnato il comitato andriese. Io ci sto. Ad oggi, in solo un anno, e sono veramente contenta di questo, abbiamo quasi 20 bambini che seguiamo e spero che in tanti inizino a... io dico sempre teniamoci per mano, restiamo unite noi mamme, perché solo insieme si può fare tanto per i nostri bambini. Vorremmo che ci fossero sempre più opportunità di gioco per loro. E' questo il nostro impegno che cerchiamo di portare avanti e di fare in modo che si cresca sempre di più e diventi poi una normalità quotidiana di gioco inclusivo per i nostri bambini. Inclusione attraverso laboratori di gruppo, momenti di socialità con i bambini affetti dallo spettro autistico e poi ancora stare accanto alle loro famiglie, un gioco di squadra che può portare a dei bei momenti da vivere insieme. Abbiamo realizzato dei laboratori solidali e qui appunto ci sono le fotografie che testimoniano le socie che lavorano. Abbiamo realizzato appunto dei manufatti degli appendini natalizi, ci siamo incontrate più pomeriggi, ci siamo divertite tantissimo e oggi siamo qui a venderli e ripeto, tutto il ricavato, tutto, verrà interamente devoluto. Abbiamo creato questi laboratori inclusivi dove i bambini e le mamme dei nostri bambini, tutti coloro che ci stanno sostenendo, si sono dedicati e hanno realizzato questi piccoli lavoretti fatti tutti a mano ed è stato anche un momento inclusivo. Per chi non potrà raggiungere lo stand nel giorno dell'Immacolata c'è possibilità di acquistare gli addobbi natalizi anche in altri modi. Ci potete contattare sulla nostra pagina Facebook Lions Club Castel del Monte Ost, se volete acquistarli la vendita continuerà anche nei giorni successivi. Oppure li venderemo anche il 16 dicembre, il giorno della nostra festa degli auguri, faremo una grande festa di Natale e lì continueremo a vendere i nostri prodotti.